In quattro avviso coperto sono entrati nella notte nell'abitazione di una pensionata vedova di Cantalupa e l'hanno costretta a dare tutto il denaro che aveva in casa, 500 euro. Avevano il volto nascosto da un passamontagna e indossavano i guanti per non lasciare impronte, ma i carabinieri della compagnia di Pinerolo hanno raccolto una serie di importanti indizi e poi ci sono anche le immagini riprese dalle telecamere poste all'ingresso del paese. Dopo il colpo i quattro hanno intimato la donna di non chiamare subito i carabinieri e per evitare che lo facesse le hanno portato via il cellulare. È stato un vicino di casa a dare l'allarme. Grazie a tutti.